Lead Generation, ci sono due problemi, uno all'inizio e uno alla fine. Te ne parlo per bene nel tempo di una bella birra, così non fai errori. Io sono Lorenzo Pinna, analizzo i dati degli utenti e sulla base di quei dati progetto esperienze memorabili che convertono gli utenti in clienti in modo sano. Io ora ti faccio un riassunto, però trovi tutto nell'articolo del mio blog che ti lascio qui in descrizione. La Lead Generation è doverosa, bisogna farla sempre e comunque. Lasciale perdere quelle persone che dicono, ah mi fermo col marketing, perché se ti fermi col marketing è finita, non stai più ricevendo nuovi utenti. Poi ovviamente ci sono diversi tipi di marketing. Marketing intendo sempre primo touch point, cioè il marketing a pagamento, il marketing organico, ci sono diversi tipi di marketing a pagamento, ci sono diversi tipi di marketing organico. Lead Generation la fai a prescindere dal marketing a pagamento e organico, perché bisogna avere sempre nuovi utenti. L'errore più grande in assoluto si fa all'inizio, quando vai a trovare, a reperire questi nuovi utenti. Per la stragrande maggioranza dei casi le agenzie di marketing vanno alla cieca. Ebbene sì, vanno a caso, perché non sanno come andare a scegliere un utente rispetto a un altro. Ci sono diverse tipologie di utenti, in questa parte te la dico per bene, vattene a beccare nell'articolo. E in base ai contenuti che stai facendo nel marketing, stai andando a prendere degli utenti o degli altri. Non esiste che tu stai prendendo tutti gli utenti. Ovviamente ti stai dedicando a una tipologia specifica. E magari quella tipologia specifica è sbagliata, perché magari non ti sta portando conversioni, o le conversioni che volevi. Quindi la cosa più importante di tutte quando si parla di Lead Generation è sfruttare l'esperienza utente. Se sfruttiamo l'esperienza utente, quindi il conoscere gli utenti, e progettare, costruire qualcosa per loro, e non per altri utenti, ma per i tuoi utenti, a quel punto anche i contenuti che fai nel marketing per andare a prendere i Lead, che sono appunto gli utenti interessati, sono specifici per quegli utenti, che tu avrai identificato come potenziali clienti. E qui ovviamente si dividono in due tipi, i potenziali clienti che diventano clienti in poco tempo, e i potenziali clienti che diventano clienti in tanto tempo. Quindi sicuramente andare a fare un'analisi di tutte le sponsorizzate, di tutti i contenuti per la Lead Generation, prima di pubblicarli. Perché magari ti portano, ti potrebbero portare, cattivi utenti. Quindi non solo utenti che non diventano clienti, ma proprio persone che anzi non lo diventeranno mai. L'altro problema è nel durante. Cioè mentre tu hai una strategia di Lead Generation attiva, e vedi che non solo aumenta piano piano, troppo piano, ma le persone che c'erano ti abbandonano. E quindi c'è gente che va via. Anche in quel momento hai bisogno di sfruttare l'esperienza utente. Perché evidentemente i contenuti che tu stai facendo per tenerti quella community, quegli utenti buoni, non sono efficaci. E allora è inutile che cambi rotta senza sapere il perché o il per come. Bisognerebbe capirlo in maniera obiettiva, matematica. Facendo un'analisi dei dati degli utenti, e quindi magari anche andando a fare delle interviste, o dei questionarii, dei sondaggi studiati, appositamente per te, si può capire perché queste persone ti stanno abbandonando. E recuperare, recuperarle magari. Se erano delle buone buyer personas. Poi nell'articolo io ti faccio anche la differenza tra conversion rate e Lead Generation, che qui ho dato per assodata. Perché senza Lead Generation è difficile ottenere conversioni? Perché è importante, te l'ho detto all'inizio questa cosa. Cosa puoi fare per ottimizzare la Lead Generation? Qua ti ho detto sia prima che dopo la strategia. E in conclusione ti dico che se non conosci i tuoi utenti, o i tuoi potenziali clienti, se non hai una bussola, è difficile che ci arrivi ad aumentare quel tasso di conversione. La leva della Lead Generation è l'interesse. Devi suscitare interesse nei tuoi potenziali utenti. Perché un utente deve trovare in te, deve capirlo immediatamente il valore che solo tu puoi dargli e che può soddisfare il suo bisogno. Ma per capire il suo bisogno, l'utente lo devi conoscere. Devi sapere cosa sta cercando per poi dargli delle risposte. Non è che gli dai delle risposte a caso. E se devi fare la Lead Generation, perché devi fare la Lead Generation, almeno falla bene. Se hai bisogno del mio supporto, trovi tutti i miei contatti in descrizione. Se vuoi rimanere aggiornato sull'esperienza utente e sulle conversioni, iscriviti al canale e seleziona la campanella. Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti danno una seconda possibilità. I tuoi, quelli che hai pagato. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova analisi dell'esperienza utente. Nel frattempo ti consiglio l'analisi che ho fatto di TenTen, un'app pericolosissima che stanno cercando di limitare in diversi stati. E poi qui ti consiglio il motivo principale per cui in Italia gli e-commerce non vendono quasi nulla. E spoiler, è un problema di design.